La maggioranza degli italiani ha appreso con una certa soddisfazione che il governo francese ha deciso di arrestare alcuni brigatisti, alcuni terroristi degli anni di piombo in Italia, colpevoli di omicidi, rapini, sequesti di persona, per consegnarli all'Italia a seguito delle domande fatte dal nostro governo ma anche dal Presidente della Repubblica prima che quei reati andassero in prescrizione. Sapete che subito dopo gli anni di piombo del terrorismo il Presidente francese Mitterrand con una legge speciale disse che chi voleva andare in Francia anche se aveva compiuto dei reati ma voleva cambiare vita, rifarci una vita, poteva farlo tranquillamente. La Francia era diventato il paradiso, la via di fuga se volete, ma il paradiso per tutti questi terroristi che si erano macchiati di crimini gravissimi e che si rifugiavano là perché là trovavano sicurezza. Si dice che i rifugiati in Francia siano stati oltre mille, oltre un migliaio, il più noto di tutti che poi ci è stato riconsegnato dal Brasile, quel Cesare Battisti che si era macchiato di molteplici delitti e che aveva vissuto in Francia una vita assolutamente normale e gaudente. A fronte di questo arresto, ripeto, che trova consenzienti molto italiani, si sono sollevati oggi gli amici di avventura che oggi sono liberi in Italia e che hanno condiviso quantomeno ideologicamente i sentire di quegli anni di piombo. E con ironia beffarda hanno detto al governo francese e a quello italiano, adesso cosa ve ne fate di questi terroristi che avete arrestato? E adesso che volete consumare la vostra vendetta? Adesso come state? Vi sentite bene? Sarcasmo per giudicare il comportamento del governo italiano che ha chiesto la restituzione alle patrie e galerie di questi terroristi. Io vorrei a questi signori, senza dargli impressione di voler infierire, domandarle se voi siete d'accordo nel dire che anche chi ha sbagliato ha il diritto a rifarsi una vita, noi non pensiamo che anche chi ha subito la morte di un proprio caro che ha subito grandi dolori abbia diritto a un po' di giustizia?